Continuano purtroppo gli sbarchi nel Sulcis e emergenza e migrazione anche in Sardegna. La Lega non ci sta, la Lega dice no all'ipotesi di una nave per la quarantena dei clandestini anche in Sardegna. Avrebbe dei costi elevatissimi per i cittadini sardi, per le tasche dei cittadini italiani. Rappresenterebbe un pull factor, un effetto attrattore, una calamita per l'immigrazione clandestina. Con una nave quarantena arriverebbero inevitabilmente più clandestini in Sardegna e in Italia. Con il rischio che questo governo Conte, il governo dei porti aperti, metterebbe in questa nave, nella nave ormeggiata davanti alle coste del Sud Sardegna, anche con gli immigrati che arrivano a Lampedusa e arrivano in Sicilia. Anche su questo tema la Lega farà le barricate.